Ciao a tutti, in questo video vediamo segnali del corpo che mostrano noia e disinteresse. Prima di affrontare questo tema però, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, questi segnali di cui vado a parlare adesso riguardano soprattutto una donna, una donna che dimostra noia e disinteresse nei tuoi confronti. Poi vedremo anche quelli un po' più specifici ma diciamo per diversi simili ma con qualche differenza che sono quelli maschili. Allora, prima cosa non mantiene l'eye contact, cioè il contatto con gli occhi viene disatteso. Viene disatteso soprattutto guardandoti e poi buttando gli occhi o verso l'alto o lateralmente o girando addirittura la testa. Non verso il basso, perché se ti guarda e poi manda verso il basso è un gradimento. Invece verso l'alto è proprio un, come dire, voglio guardare oltre, non mi interessi, voglio andare oltre, non sei la persona giusta per me. Poi altri segnali sono quando ti vede incrocia le braccia o incrocia le gambe. Quindi sono, diciamo, segnali che se avvengono in sincronica risposta al tuo, come dire, interagire, indicano che non ce n'è, insomma. Un altro segnale che indica questo è il raschiamento che avviene proprio in concomitanza a, a, diciamo, in concomitanza all'interagire nei tuoi confronti. Quindi prima di dire una cosa, oppure dopo che hai sentito una tua cosa. Altri segnali sono tutti quelli legati, diciamo, alla postura. Cioè se una donna, ad esempio, incrocia le gambe in modo tale da tenerle molto strette, molto chiuse, e non in una posizione sensuale, ma proprio in una posizione di chiusura, talvolta attorcigliando il piede, l'altro piede dietro, è perché proprio nei tuoi confronti è una chiusura. Non ne sta mettendo in quel modo lì per sedurti, ma proprio per chiudere. Per chiudere completamente la relazione. Vuol dire che quello che stai facendo non sta andando bene. Poi vi sono altri segnali che indicano che non c'è interesse nei suoi confronti. Ad esempio tende a toccarsi il naso, a toccarsi spesso il naso in questo modo. Un'altra cosa è la vedi sovra pensiero. Cioè tu parli e vedi che è come se lei fosse, soprattutto se, diciamo, è in chiusa dentro se stessa, è come se non ti stesse neanche sentire. Quindi non metti in atto un ascolto, è assorbita nei suoi pensieri. Poi il mente starà pensando a qualcun altro. Tu sei lì che le parli e lei penserà a quel Mario che ama tanto ma che è molto lontano da lei. Perché capita proprio questo. Questo lo puoi notare, ad esempio, se mantiene sempre una postura con gli occhi verso il basso, soprattutto se, diciamo, spinti alla sua sinistra, che rappresentano un dialogo interno. Cosa significa? Significa che tu stai parlando ma lei sta ascoltando se stessa. E tu sei fuori, sei distaccato. Non ha nessun contatto con te. Non ha proprio nessun... Cioè sei escluso, diciamo, dalla sua intimità. Poi un'altra cosa è osservare la prossemica. Se mantiene sempre una distanza, evita ogni contatto fisico. E addirittura quando tu provi a fare un contatto fisico o ad avvicinarti, quindi a ridurre la prossemica, tende ad andare indietro, tende a distaccarsi. Sono tutti segnali di noia e di disinteresse, che possono anche poi diventare anche quasi logici, diciamo, se magari ti sbadiglia in faccia. Quando tu parli, le viene da sbadigliare, è annoiata, vedi che è distratta, non è concentrata su di te. Ecco, sono tutte cose che le fanno capire che non ce n'è, insomma. Che non ha nessun interesse a interagire più di tanto con te. E quindi cosa dovrei fare? Dovrei cambiare modalità operativa. Il che non significa che hai perso la guerra, però sicuramente devi cambiare modo di interagire, perché questo non funziona, insomma. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e seguimi sul mio nuovo canale Felicità e Benessere, anche questo canale qua, di cui appunto ti posto anche il link in descrizione. Ciao a tutti! Grazie! Grazie!